Ciao, in questo video andremo a vedere insieme la tier list per la patch 5.2 Finalmente siamo tornati con le tier list, quindi vi chiedo scusa per aver saltato la 5.1D Insomma, per i vari problemi che ho avuto Ma siamo tornati con la 5.2 Come sempre, la solita premessa Questo è il mio punto di vista È la mia esperienza, ovviamente nell'arco degli anni Già, ho detto un sacco di anni oramai Però non è legge, giocate quello che vi piace Giocare, giocate quello che ritenete sia forte È solamente appunto un punto di vista, un punto di partenza E ovviamente ci sono spunti del meta, spunti ai ghello Considerazioni, peak rate e informazioni che io acquisisco dal mio punto di vista Quindi, mi raccomando, cominciamo con la barola Qui è importante dare come considerazione iniziale il fatto che abbiano aggiunto due nuovi item nella patch 5.2 Che sono l'Eclipse e il Thunderhead L'Eclipse l'abbiamo visto sia sui fighter sia sugli assassini E il Thunderhead principalmente sui fighter Li hanno anche baffati nell'hotfix della patch 5.2 E se non avete visto vi consiglio molto di guardare quel video Ci sono anche tutte le mie considerazioni sulla patch 5.2 Però detto questo andiamo a vedere dei fighter potenziati da questo C'è un pro e un contro che molti, molti peak dei vari fighter vanno ad utilizzare questi oggetti Quindi che cosa succede? Che se li utilizzano tutti il livello tra loro non diventa proprio massivo Perché la maggior parte di loro vanno ad utilizzare questi oggetti E più verso magari altre categorie che invece non li usano L'esempio più grosso può essere il fatto che ad esempio personaggi come Aatrox e Riven Che sono molto forti nella patch attuale Riescono a curarsi e a fare ancora più danno Verso che ne so a D-Carrie, Maghi e così via E riescono a sfruttare molto bene questi item Ma magari contro un altro top laner che sta giocando gli stessi oggetti La situazione è simile insomma a quello che era prima Procediamo con il nuovo stile delle tier list che ormai vi ho fatto vedere di recente Cioè quello che vado a sistemare alcune cose durante il video In particolar modo andiamo a selezionare per primi i personaggi che sono stati nerfati Nerfati che sarebbe buff più nerf Buffati, nerfati, modificati o aggiunti Quindi il primo che andiamo a menzionare in questo caso è Darius Darius prima lo avevo in tier S Ok lo avevo in tier S Ma secondo me con il buff e con il pick rate attuale Andiamo in tier S più Chiaro che non è un pick che potete prendere sempre al 100% O meglio potete piccarlo molto spesso Però se ci sono troppi campioni che vi chitano, vi rallentano Non fanno in modo, cioè fanno in modo che voi non raggiungiate i bersagli È un po' complicata la situazione Ma se è uno di quei fighter game dove ci sono un sacco di melee e cose del genere Dove potete staccare la vostra passiva e fare il devasto Ecco è sicuramente un pick molto forte Abbiamo poi Garen che era in tier S più e nonostante il nerf lo lascio in tier S più Perché è un campione veramente fortissimo È molto facile da utilizzare, è molestissimo Prende le torrette, silenzia, c'ha demasia Cioè è veramente tanta tanta roba Abbiamo poi Maokai che è stato nerfato Lo avevo in tier A in top Ma non solo è stato nerfato Ma io lo metto comunque in tier S Perché è un campione veramente fortissimo È uno dei miei must ban A fine video vi dirò anche quali sono i campioni Che banno sempre in generale O quelli che vorrei vedere bannati ogni partita Continuiamo su Riven che è stata abbaffata E per la quale arriverà anche un video Perché sto lavorando come un maialozzo Per cercare di farvi uscire un video figo di Riven Perché me l'hanno chiesta Un abbonato di livello 3 mi ha chiesto la Riven E quindi la sto proprio spammando tantissimo Per cercare di capirla al 100% Lei era in tier S Ma sono molto tentato di metterla in tier S più So che ci sono tanti campioni in tier S più Ma credo che sia un meta dove veramente ne vediamo molti Cioè la maggior parte di questi campioni mi capita di vederli Forse Akali e Gwen un po' di meno Ma perché sono pick un po' più reazionari In top dove uno dice Ah serve la P allora lo vado a prendere Però la Gwen che scala è sicuramente interessante Vuole dire che magari la mettiamo in tier S Perché contro certi fighter in early rischia di prendere troppe botte Però è comunque un campione molto forte Come menzione abbiamo Horn Che ho abbassato dai pick consigliati a tier S Vi ricordo i pick consigliati non vuol dire che necessariamente Che siano i pick più forti in assoluto Ma che per un motivo o per un altro li consiglio Ecco Horn l'ho spostato dai consigliati a LS A livello un po' di pick rate è leggermente meno piccato questa patch Perché non è che ha avuto grandi cambiamenti Mentre i fighter on si con i nuovi oggetti e tutto quanto E quindi lo vediamo un po' di meno Anche su di lui dovrei fare un video di abbonati di livello 3 Cioè due video della top lane nello stesso periodo mi stanno uccidendo Andiamo poi a vedere Aatrox Finalmente parliamo dei pick consigliati Aatrox fortissimo Sbroccato Con i due nuovi item è una roba che non esiste E veramente ve lo consiglio a mani basse Renekton continua a rimanere tra i miei pick consigliati in top Perché è un campione super versatile Fortissimo in lane In generale si gestisce bene team fight Si gestisce bene lo split E non è eccessivamente difficile da giocare Dopo che ci hai messo quelle 10 partite Comunque un'idea ce l'hai Ma è chiaro che chi ne ha 100 ne sa molto di più Però è uno di quei campioni che continuo a consigliarvi in generale Altra considerazione anche se non viene spostato è Jax Dal TRS più Vi ricordo che non sono in ordine i campioni Semplicemente stanno lì Non è un ordine che arriva Non è eccessivamente più forte di gare Non viceversa Stanno semplicemente lì per comodità Jax pick consigliato Non consigliato da mettere qui Ma in generale tenetelo d'occhio Perché comunque era stato baffato Era stato reworkato E quei pochi che becco sono veramente molto forti E sono contento che la gente ancora non abbia capito quanto è molesto Spacca le torrette in 2 secondi ed è molto forte In generale poi i campioni che hanno Che costruiscono il Sundered Sky Sono campioni che sono stati baffati tecnicamente Abbiamo ad esempio Fiora e Camille Che vanno ad utilizzare magari il Trinity Più il Sundered oppure il Divine Più il Sundered E quindi sono belli molesti Si curano Fanno tanto danno Possono splittare bene E gestirsi tante cose In generale per quanto riguarda l'eclipse Menzionerei Jace Jace con l'eclipse mi piace tantissimo Penso che sia più forte mid che top Ma se lo giocate tanto E se siete molto forti È un campione molto interessante Come personaggi invece un po' più forti Con il proiettore Che è stato aggiunto nella 5.2 E ho fixato nella 5.2 Adesso lo possiamo costruire con il Rabadon Abbiamo Swain e Vladimir Swain lo sto lasciando in tier B Perché top mi sembra un po' deboluccio Cioè probabilmente è meglio support mid top Però è un campione che vedo anche comunque pochissimo in generale Però potrebbe fare il suo comeback con questo oggetto Vladimir stessa cosa Top non mi fa impazzire Probabilmente potrebbe essere da tier S Ma non lo si vede praticamente mai Abbiamo poi Nasus Che ho fatto salire in tier A Perché Nasus Pure lui con Sundered E Divine insomma Sta diventando un pick molto interessante Vedo dei Nasus belli grossi Si gestiscono meglio la lane Farman e tutto Il problema è il solito però Che dovete cercare di arrivare a quel punto della partita Tipo l'altro giorno Stavo giocando una partita con Nasus top Perché me l'hanno richiesta in live Con una donazione E quindi Stavo andando anche abbastanza bene Cioè la partita Non stavo vincendo la lane Però era ok Nel frattempo la mia squadra ha perso tutte le lane Quindi c'ero io lì Che stavo Con una normale quantitativo di gold E non ho potuto fare niente Mentre magari Se avessi avuto un Aatrox Vincendo la lane Con tanti gold Avrei potuto dare più impatto sulla mappa E ecco la situazione Sarebbe potuta essere diversa Poi c'è Viego Che ho abbassato in tier A Dal tier S Perché in top lo si vede poco È sempre bannatissimo E onestamente Se è open Lo voglio in jungle E non lo voglio in top E infine Abbiamo Graves Che ho abbassato in B Perché non lo si vede praticamente mai Poi c'è Lissandra Che come vedete qui Baffati e nerfati Ma perché è stato aggiunto Onestamente Lissandra top Mi pare una gran cacata La metto in B Solo perché Che tecnicamente è un campione forte Probabilmente Lissandra tank Potrebbe essere da tier A Ma Cioè se Lissandra è open La vorrei mid Non la vorrei top E poi vi ricordo Che sono live tutti i giorni Dalle 16 alle 20 Tranne il venerdì Se volete venire anche a fare il Prime Con Amazon Prime Che è gratis Mi apprezzo Apprezzo molto Se lo volete venire a fare Normalmente Apprezzo lo stesso Se no Ci stanno i vari Modi di supportare Vi ringrazio molto Lo dirò a tutte le lane Perché tanto alcuni guardano solo alcune lane E non tutti Chi le guarda tutte Vi voglio bene E vi ringrazio per beccarvi questo spam Andiamo a vedere la jungle Partiamo da Maokai Che è stato nerfato in questa patch Ma onestamente Ritorna nei consigliati È un campione fortissimo È uno dei miei must ban Ne parleremo anche più avanti E giocatelo È forte È veramente forte È sbroccato Piccatelo Piccatelo Piccate giocate Maokai Che è super super forte Abbiamo poi Riven Che è stata abbaffata Ed era in TRS Però onestamente La metterò in TRS più Ci sono Cioè fa dei danni che non esistono Sicura tantissimo In generale La meccanica di reset Che poi l'hanno aggiunto Con i rework È veramente molto forte E quindi la metto in TRS più Abbiamo Darius Che era in TRS più Ma penso che metterò in TRS Al momento Non credo Sia così forte Attualmente In jungle Penso sia meglio in top Però comunque Il suo lo fa Ed è un campione Che non credo sia da tier Quindi lo metto in TRS C'è poi Lissandra jungle Che penso sia una turbo cacata E quindi la mettiamo in TRB Giusto per Insomma far far vedere Visto che è stata aggiunta Dove va Poi abbiamo i pick consigliati Ecarim Super forte Vabbè diciamo che Viego tecnicamente è il più forte Ora non sono in ordine Cioè come sempre vi ricordo Che non sono in ordine Però Viego appunto Credo sia veramente Forse uno dei più forti In generale di questa patch Cerco di piccarlo Lo bannano sempre Però ci vinco tantissimo Anzi se volete vedere Ci ho appena fatto un video Dove ho fatto 24-2 Con il buon Viegozzo E la build nuova Che ci utilizzo Ecarim appunto Molto consigliato Lo utilizzo quando è bannato Viego O quando è bannata Riven Se non la voglio piccare Se sono rosicato Perché ci sto facendo il video Come ho detto anche in top lane E appunto Lilia Lilia è super buona Contro tutti questi fighter Contro i tank Contro gente che magari Non ti fa full one shot Oppure che ti locka Per terra al 100% Quindi comunque un pick Molto forte Ed è uno anche lei Dei champion Che vado a bannare Abbastanza spesso Talon Con l'eclipse Mi piace moltissimo Yohumu Eclipse Poi ovviamente Il resto della build Si va a vedere In base alla situazione E la gente sottovaluta Molto questo campione Ma è veramente Molto forte Ho finito anche la season Con il 75% di win rate Su questo campione E non sono tecnicamente Main jungle Quindi campione Molto consigliato Abbiamo poi V Che viene messa Cioè viene messa Che ho messo In TRS V In TRS V V arriverà un video V V Probabilmente Il giovedì Quindi Giovedì di data Vediamo che giorno È giovedì Primo Ok giovedì primo Agosto Dovrebbe arrivarvi Un video di V Perché ho fatto Un game sbroccatissimo Con i nuovi item E mi piace tantissimo E poi magari succede qualcosa Anche nelle pace Non so chissà In generale Aatrox è molto forte Anche jungle È un pick Veramente Super super Forte Mi vado a ripetere Qui perdonatemi Ma anche Cioè top lo preferisco Ma anche jungle È molto buono Abbiamo poi Nautilus E Amumu Come menzione Che utilizzano L'oggetto AP Cioè possono utilizzare L'oggetto AP È vero che con Nautilus Magari andiamo a cercare Un full AP Per shottare Ma a un certo punto Della partita Se vogliamo metterci Quell'oggetto Che tra l'altro Adesso può essere Costruito con il Rabadon Potrebbe comunque fare Al caso nostro Considerando anche I scudi già Molto grossi Che si va a applicare Da solo questo campione Quindi in generale Mi piace su Nautilus Amumu pure Lo può andare a buildare Altra considerazione Di un champion Da tenere d'occhio È Kane rosso Probabilmente Potrebbe essere Da TRS più Ma al momento A livello di pick rate Non lo vedo così tanto Da alzarlo fino al TRS più Però in generale È un campione Che vi consiglio Insomma Cioè se già lo giocate Se già lo conoscete Se non lo giocate Non lo conoscete Lo dovete imparare Ancora no Però se già lo giocate Invece magari In questo periodo State provando Più di queste cose qui Invece già lo sapete usare Fate un tentativo Con che il rosso Perché anche qui Tanti fighter Funziona molto bene E ora vi ricordo Che sono live tutti i giorni Dalle 16 alle 23 Nel venerdì Se volete fare il prime Supportarmi Tutte cose Apprezzo moltissimo Come sempre Lo dirò ogni lane Però chi le segue tutte Vi voglio bene Ve lo dico a tutte le lane Così sapete che Arriva dal cuoricino E andiamo a vedere la mid lane Qui partiamo subito Da Lissandra Che è stata aggiunta Nella patch 5.2 E ve la metto Assolutamente In cima I pick consigliati Credo che sia Estremamente forte Sono molti a chiedermi È broken Non è broken Credo che sia broken Perché? Perché i danni Che fa E la facilità di utilizzo Specialmente della Suprema È veramente Tanta roba Cioè comunque Tu tieni fermo qualcuno Con un tasto Cioè poi tu È un point and click Praticamente Cioè vai lì Selezioni il bersaglio E lo blocchi nel ghiaccio E tutti gli emenano È veramente tanta roba E in generale Io ci sto facendo Una quantità di game Quei pochi Che le riesco a piccare Dove vado super fidato MVP SVP Ho tipo 85% win rate Ed è un campione Fortissimo Se non avete visto il video Guardatevi il video Tanta roba Consigliata E bannatela Se non la giocate Poi c'è Maokai Che è stato nerfato Ovviamente Maokai mid Non mi fa impazzire Ve lo metto tipo in tier B Oddio Non so se a livello di Kyle Cioè perché il champion è sbroccato Quindi lo metto in tier A Perché probabilmente va comunque meglio di Kyle in mid Però sicura tanto Può buildare qualche oggetto Magari fate la rodovegis Fate l'oggetto nuovo Giocate in una versione un po' Un po' Tancosina AP Però in quel caso dovete avere comunque qualcuno in squadra che fa abbastanza danno E in generale L'unico motivo per cui piccherei Maokai mid è per non lasciarlo agli avversari E nel frattempo Nessuno che è il mio jungle non lo vuole giocare Il mio topper non lo vuole giocare Il mio support non lo vuole giocare E sono così tanto spaventato ad avercelo contro che lo prendo mid Però vuol dire che va a fare spiccato e allora a quel punto non sapete se avrete abbastanza danni nel resto del team E quindi ecco Se siete in pentachew e volete organizzarvi e fare qualcosa e giocare Maokai mid Lo potete fare Altrimenti in generale comunque lo lascerei ad altri ruoli Tra i consigliati abbiamo Kassadin Kassadin in generale è un pick fortissimo Continuo a straconsigliarvelo È un campione che dovrebbe essere debole in early game Poverino In realtà fa comunque tantissimo danno Al 5 ci arriviamo facilmente Possiamo essere abbastanza safe Ci rubiamo qualche kill Completiamo i primi due oggetti E iniziamo a carriare veramente durissimo È uno dei miei champion proprio Che quando dico ok voglio fare il devasto prendo Kassadin Ci ho anche fatto una pentachield di recente Sono pure indeciso se quello è un game da canale oppure no Perché comunque ci faccio video spesso e non c'è niente di nuovo sulla build Però vediamo Magari se ho un buchetto filler potrei metterlo Ma non prometto niente Yasuo tank ancora tanta roba Quello di PS lo sto rivedendo un po' più spesso Ma il tank è quello più sbroccato Jace Jace pure lui con l'eclipse mi piace tantissimo È uno dei champion che vince più facilmente la corsia E che può snowballare in maniera pesante Ed in generale è un champion che è forte in tutti gli stadi della partita Specialmente se poi vi fidate i nerli Siete una roba enorme e fate tantissimo danno anche a tank e fighter Abbiamo Lux in TRS più che ho abbassato dai picchi consigliati Semplicemente perché la si vede un pochino di meno Ma in realtà è comunque un champion molto forte e molto facile da utilizzare Diana anche l'ho abbassata dai picchi consigliati in TRS più Per me... Cioè il punto su Diana è che io l'ho giocata 600 partite più o meno in totale Quindi riesco sempre a farla funzionare in ogni situazione Mi sembra che faccia tanto danno e che funzioni molto bene come campione Ma l'ho tolta semplicemente dai picchi consigliati Ma continua a essere secondo me una TRS più Morgana invece era in TRS e l'ho fatta salire in TRS più A livello di pick rate la si vede molto più spesso E funziona molto bene anche contro tank e fighter Con la sua build path che sappiamo va a dare fastidio Poi specialmente il rely che a un certo punto va a costruire Che rallenta è molestissimo Sono un po' indeciso su Syndra Perché per me è molto forte e fa tanto danno Ma mi sembra che abbia un po' uno spot del cavolo in questa patch Cioè probabilmente la metterei in TRS A livello di quante pizze prende dai vari fighter E l'early game a cui non riesce a sopravvivere Ma in generale scala veramente benissimo e ha tanto danno Però a livello di pick rate la vediamo di meno Quindi sì dai la abbassiamo in TRS qui Anche se non ha un ordine consideratela tra il TRS e il TRS più Aurelion l'ho abbassato dal TRS più al TRS Semplicemente a livello di pick rate in generale Lo si vede un pochino di meno E' più un champion che prendiamo quando vediamo un paio di tank E vediamo insomma che qualcuno ci zompi in faccia Perché altrimenti è un po' scomodo In generale mi piace piccarlo contro il Yasuo tank E mi aiuta a scalare decentemente Giocandomi una lane abbastanza safe Ho abbassato corchi da S più ad S per pick rate Perché è un pick che diciamo un po' più di nicchia E io cioè se fosse per me lo metterei nei pick consigliati TRS più perché ci carino sempre Faccio il devasto e è uno di quei champion che gioco veramente veramente molto bene Però ho deciso di abbassarlo in TRS per i pick rate Simile per Zed Zed se sei un OTP Omega Strong superfico Con l'Eclipse lo fai funzionare bene E' anche più forte della patch precedente Ma lo giocano letteralmente solo gli OTP Quindi non è un pick che la gente prende in mano se non sa già giocare tanto E quindi per questo da TRS più a TRS Anche se se siete OTP probabilmente è semplicemente un TRS più Come menzioni per il nuovo item Il proiettore che può funzionare molto bene su alcuni IPG un po' più tancosini Abbiamo Gragas Abbiamo Galio Abbiamo Swain Che adesso sono un po' indeciso per il tier E Vladimir Vladimir adesso lo si può andare a costruire insieme al cappello Il problema è che io lo costruirei sempre comunque come tipo quarto oggetto O quinto oggetto addirittura Perché i primi oggetti ci servono molto di più rispetto a quell'item Però ecco su di lui è proprio C'è un attimo questa indecisione Continua ad essere un campione molto forte Infatti l'ho lasciato in TRS più Per Swain sono un po' indeciso se farlo salire in TRS Perché l'early game non è È un po' Sta lì Non fa troppissimo Quindi anzi fatemi sapere che ne pensate di Swain Se lo giocate tanto Se lo avete provato con un nuovo oggetto In generale appunto Le vostre considerazioni su di lui Galio funziona molto bene In generale come campione è forte E come quarto oggetto ce lo possiamo andare a mettere E boh si Con Maokai mid Tecnicamente lo possiamo andare a fare A questo punto Vi ricordo che sono live tutti i giorni Dalle 16 alle 20 Tranne il venerdì E che se volete venirmi a supportare In generale guardarmi Periodotto mi fa piacere Se poi fate pure il Prime Tanta roba che il periodo È un po' complicato E se lo state vedendo per la terza volta Questo messaggio vi voglio ancora più bene Della seconda E quindi Andiamo a vedere gli AD Carry Qui andiamo su una lane Dove praticamente non ci sono cambiamenti Come sempre molto spesso Per AD Carry e per Support I cambiamenti sono pochi Non c'è stata un'aggiunta di item Non ci sono state cose particolari C'è stato l'hotfix di Kalista Tra l'altro su Kalista Vi ho fatto uscire un video Molto figo Con anche la Pentakill con Kalista E per dove faccio vedere appunto Anche la nuova meccanica Della terza abilità Che ci fa vedere la soglia di esecuzione Aggiunta proprio nell'hotfix In generale L'avevo in TRS più E credo che la lascerò in TRS più Ma come sempre Con la considerazione Che giocate con un tank Support Idealmente che conoscete Con cui state giocando insieme Altrimenti Se non conoscete il Support Probabilmente da TRS Se il vostro Support Piglia una roba inutile Da TRA Però principalmente da TRS più Per quanto riguarda Pick consigliati Rimaniamo su questi Perché Kaiza È molto difficile da uccidere Scala bene Fa tanto danno Allo scudo All'invisibilità All'dash Ezreal è inammazzabile Fa tantissimo danno di pochi Buon danno anche negli 1 contro 1 A un certo punto Scala anche lui Molto molto bene E Varus Che è estremamente versatile La passiva Fa tantissimo danno Della seconda abilità La ulti è molto buona Fa delle buone combo in bot Sopravvive facilmente Farma con la freccia da lontano È buono anche sugli obiettivi O comunque nei fight Nelle skirmish Quindi tanta roba Lucian Super champion Early game Molto forte Tristana Scala benissimo Xayah Anti-assassin Anti-gente che ti zionpe in faccia Molto molto forte Anche lei Caitlyn Safe pick Che potrebbe essere anche da TRS più A livello di win rate in generale Messa bene Però è un po' poco piccata Di recente Corki Stesso discorso che ho fatto per la mid Jin è ok Sivir A me continua a piacere come champion E che le persone non sanno utilizzarla come si deve Draven Solito scaling champion Zeri Sta messa bene in questo meta Ogni tanto la vediamo più forte Ci avevo fatto anche un video di recente Anche se era per la patch 5.1 E non per la 5.2 Appena arrivata Zigzin bot Per me continua ad essere molto molto forte Chiaramente giocato Quando sappiamo Già che abbiamo abbastanza danno a D Siamo organizzati col support O cose del genere MF Fa una barca di danno Dovete vincere la lane È comunque un po' rischioso Se non avete abbastanza pill Per Samira Me la sento un po' deboluccia Nonostante è chiaro che se giocate Nautilus Samira Trash Samira E fate le combo E fate la roba E iniziate a scalare Diventa molto molto forte Però ecco La sento un po' meno forte Rispetto ad altre patch E per il resto Qui facciamo Hyper Carry Hyper Carry Nila che ormai è inutilizzabile Non la usa più nessuno Quindi a livello di Picret Non la si vede mai E Ash che è una D carry Da utilità Twitch se siete UTP E lo sapete usare Probabilmente da TRS Ma nel frattempo Non lo consiglierei a nessuno Senna D carry Vi odio Anzi la metto pure qua Tanto perché Per far capire quanto odio Senna D carry Se giocate Senna Con Ziggs Ok Non siete la D carry Siete comunque il support E allora si Diventa molto forte Giocare Senna Ziggs Oppure la giocate con Sio Non la giocate con Nasus La giocate con chi cavolo vi pari Ma non sarete la D carry Sarete il support Quindi Se giocate Senna D carry E voi dovete farmare Ed è una schifezza Ok Bene Non la giocate a D carry Giocate alla support Fa delle combo strane Ma non a D carry Detto questo vi ricordo che sono live Tutti i giorni dalle 16 alle 20 Tranne il venerdì E che potete venire a supportarmi Intanto ovviamente a salutarmi Ma a supportarmi appunto Con il Prime Grazie a chi se lo sta sentando Per la quarta volta Ti voglio bene Andiamo a vedere i support E qui vedete Ho aggiunto un nuovo tier Che si chiama Odio questo gioco Lulu e Yumi Sono must ban Sono must ban Quindi Non c'è molto da dire Tutte le partite Ne è ghello Si banano Yumi E si banano Lulu E se una delle due rimane open Viene piccata Appunto Cioè non c'è nient'altro da dire Rendono il gioco meno divertente Purtroppo vanno bannate E quindi spero sempre Che rimangano bannate Per la maggior parte del tempo Quando arriverà Milio Ci sarà da divertirci Perché ci servirà Poi del terzo ban Ma va bene Support bannati A livello di picchi consigliati Nautilus Continuo a consigliarvelo Veramente tanto Mi piace tantissimo Buoni CC Buon danno E buone ovviamente Sia pill Perché potete difendere Sia ecco A livello offensivo Ma anzi prima di continuare qui Abbiamo anche Maokai Che è stato nerfato In questa patch Ma onestamente Ve lo metto comunque Nei consigliati Perché è un champion Veramente forte E anzi lo mettiamo qui Proprio fortissimo Piccatelo E sempre se è open Altrimenti bannatelo Lissandra Odio Lissandra Support Perché vuol dire Che non è piccata mid Mid penso sia meglio Ma ve la metto comunque In TRS Perché è un campione Facile da utilizzare Fa dei buoni CC Buoni engage E crea situazioni Quindi comunque facile da utilizzare Il punto è Se Alissandra è open La voglio mid Non la voglio support Cioè penso che l'unico modo Per piccarla support Sia tipo Io la picco mid In first pick Quelli prendono Che ne so Cassadin Che è molesto Anche se in realtà Ve lo potete gestire Ma allora dici Cacchio Voglio prendere Jace Contro Cassadin E menare gli in early game E allora faccio lo scambio Con il mio support Che si prende Alissandra E allora me la collo Però in generale Se è open e first pick La voglio per il mid laner Poi sempre come consigliato Vi ho aggiunto Alistar Facendolo salire un pochino Perché in generale Contro questo fighter meta È molto forte È lo stesso motivo Per cui ho fatto salire Brom da TRS a TRS più Perché comunque Giocano tanti melee Tanti fighter E funziona veramente bene Idealmente volete almeno Uno con attack speed Nella vostra squadra Per applicare La passiva di Brom Una Diciamo uno spoiler importante Se siete maghi Perché mi capita Giocando mid Se siete maghi E avete Brom in team Non dimenticatevi Di tirare gli attacchi base Perché la sua passiva Funziona anche con gli attacchi base Di un mago Seppur lenti O seppur che fanno poco danno Poi ho fatto salire Soraka in TRS più Perché comunque Con tutta questa frontline Riesce a funzionare Molto bene E poi In generale Il resto della tier list Non è cambiata particolarmente Teniamo d'occhio Swain Con l'eventuale proiettore mentale Stessa cosa vale per Galio E soprattutto Ora che lo hanno potenziato Di più Anche se Non funzionando Con il cappello Cioè Funzionando con il cappello Almeno su Galio tank Non lo vogliamo fare Su Swain Potremmo volerlo fare Dipende se magari Facciamo due item da tank Cappello E poi nuovo item Non lo so ancora Lo si vede pochino Però secondo me Salirà un po' Vi ricordo che sono live Tutti i giorni Dalle 16 alle 20 Tranne il venerdì E poi questa è la quinta volta Che ve lo dico Se volete venire Mi fa molto piacere Se volete fare prime Mi supporta E parliamo dei ban I ban che io vado a fare Durante questa stagione In generale Da un bel po' di tempo Ovviamente sono Yumi e Lulu Sempre Poi banno Maokai Viego Ekarim Lee Sin Lilia Aatrox E Lissandra Questi sono più o meno I ban che vado a fare Comunque le persone Con cui sono premade O quelli che chiedo di fare Mentre sono in ranked Yumi e Lulu Perché sono sbroccati Maokai Perché è molto molto Maokai e Viego Fortissimi Ekarim in generale Lo banno dopo Maokai e Viego Stessa cosa vale per Lee Sin Sono due campioni Che sono molto forti Lee Sin in generale Poi in Egg Lo becchi sempre Lee Sin e Main Che hanno 8000 game Supercaria Con 70% winrate Lilia È un ottimo champion In generale Se sono bannati gli altri Magari ci penso Aatrox È un ban Fattibile Specialmente per i top laner E Lissandra In questo momento Se non la picchiamo In blue side Spesso viene bannata Detto questo Io vi ringrazio Per aver visto il video Fino alla fine Vi auguro una buona serata Delle buone rank Ed noi ci vediamo Al prossimo video